Parliamo della teoria di Piaget, psicologo svizzero, che può essere considerato l'iniziatore di un approccio genetico, biologico, biopsicologico alla intelligenza. Secondo questa teoria l'intelligenza si evolve da forme semplici a forme concrete fino ad arrivare a forme astratte, come la capacità di formulare ipotesi e ragionamenti deduttivi. L'intelligenza per Piaget è una sorta di adattamento all'ambiente e questa teoria, chiamata anche teoria genetica dell'intelligenza, parte dal presupposto che inizialmente nel nostro intelletto esistono degli schemi per lo più innati che vengono utilizzati per rappresentare operazioni semplici o complesse. Questi schemi sono poi successivi agli schemi sensoriali, gli schemi motori e a quelli che sono poi i riflessi innati, riflessi arcaici come il riflesso di moro e il grasping reflex, che appunto sono risposte automatiche a degli stimoli prodotti dall'ambiente. Questi schemi vengono modificati attraverso due processi che sono l'assimilazione e l'accomodamento. L'assimilazione consiste nel processo attraverso cui si ha esperienze del mondo, attraverso schemi o concetti che sono già in possesso dell'individuo. L'assimilazione quindi è un concetto biologico sostanzialmente. L'accomodamento invece consiste nel modificare tali schemi che sono già appunto stati assimilati. Pertanto l'adattamento che coincide con quella che Piacet chiama l'intelligenza è una forma di equilibrio tra assimilazione e accomodamento e quindi presuppone una diversa organizzazione mentale. Piacet delinea una teoria dell'intelligenza stadiale che avviene all'interno di stadi e non fasi che hanno delle precise connotazioni. La prima forma di intelligenza è quella caratterizzata dall'esercizio dei sensi e del movimento. Pertanto Piace parla di un'intelligenza senso-motoria caratterizzata da un comportamento intenzionale, dalla comparsa del pensiero rappresentativo simbolico, dalla comparsa dell'imitazione riferita e dall'acquisizione della nozione della permanenza dell'oggetto. In questa fase, che poi viene articolata in varie sottofasi, si esercitano anche i riflessi innati, gli schemi e si arriva piano piano ad una seconda fase che è caratterizzata a partire dai 18 mesi ai 24 mesi da quello che è appunto il pensiero rappresentativo. Il pensiero rappresentativo compare con l'acquisizione del linguaggio e con l'imitazione differita, quindi con un'imitazione che presuppone anche lo sviluppo dei concetti, della mente, per così dire. Dei due o sei anni si può parlare di stadio preoperatorio caratterizzato dall'egocentrismo, quindi dall'incapacità di decentrarsi, di leggere la realtà da più punti di vista e dal pensiero reversibile, quindi questa incapacità che consiste nel considerare una situazione alla volta paragonandola ad un'altra, insomma, quindi è un'incapacità che il bambino che attraversa questo stadio, che il bambino appunto non riesce, insomma, per così dire, a padroneggiare due o più situazioni con il paragonandola. In questo stadio si individua anche una sorta di gioco, che è il gioco simbolico, un gioco di regole, un gioco di costruzione, che si può affiancare al gioco di esercizio caratteristico dello stadio senza motore. Successivamente, quindi a sei anni in poi, a sei e undici anni, si attraversa lo stadio delle operazioni concrete e si acquisisce appunto il concetto di reversibilità. Reversibilità appunto vuol dire che il bambino è capace di fronteggiare due o più situazioni contemporaneamente. Parliamo quindi anche delle operazioni logiche e delle operazioni di classificazione, di serieazione, di inclusione. Dagli undici anni, dodici anni in poi, il bambino attraversa lo stadio delle operazioni formali, caratterizzato proprio dall'affermazione del pensiero astratto, da un pensiero ipotetico deduttivo, da un pensiero logico deduttivo e quindi da tante altre trasformazioni che caratterizzano la personalità del fanciullo oramai adolescente o anche diciamo preadolescente.